Per me il palio è condivisione perché si condivide tempo e anche molto, si condividono idee per far sì che ogni anno ci sia qualcosa di nuovo e c'è la condivisione delle forze perché bisogna costruire le proprie idee una volta che si sono pensate, è spettacolo che fa divertire sia noi che le persone che ci seguono, cura dei dettagli, cura dei giochi, delle tradizioni, il palio è emozioni che se non vivi non puoi trovare.